Le macchine fotografiche di un tempo erano sicuramente costruite in maniera diversa rispetto a quelle di oggi. Erano più robuste, più resistenti, più durevoli e possono sostanzialmente aspettare un'eternità riposte in un armadio senza subire nessun danno. Giusto? Sbagliato! E oggi andremo a vedere perché. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e oggi parliamo di fotografie e videomaking. In particolare andrò a parlarvi di fotocamere vistosamente vecchie, fotocamere vintage nel vero senso della parola, che alcuni di noi potrebbero avere in casa e che necessitano di un intervento da parte nostra, anche se noi non lo sappiamo. Ma scoprirete tutto nel corso del video, per cui assicuratevi di guardarlo fino alla fine per evitare che la vostra strumentazione accuratamente riposta in armadio possa subire dei danni anche permanenti. Prima di cominciare ricordo a chi si fosse sintonizzato soltanto adesso e non fosse già iscritto al canale che può iscriversi in maniera del tutto gratuita cliccando il bottone qui sotto. Attivate anche la campanella così non vi perdete le nostre preziosissime notifiche. Mettete anche un like a questo video così mi date una mano a crescere su YouTube. E andiamo a incominciare. Dovete sapere che questo video nasce tutto a causa di questa piccola fotocamera che ho ritrovato in casa dopo diversi anni. Questa qui era la fotocamera di mio nonno ed è sostanzialmente la prima macchina fotografica che io abbia mai utilizzato in tutta la mia vita. È molto bellina, spero che riusciate ad apprezzare in ripresa. È una Nikkor Mat con un bellissimo Nikon 50mm f1.8. Quindi è un obiettivino che insomma all'epoca poteva essere considerato top di gamma. Non ce n'erano tanti. Questa è di mio nonno quindi stiamo veramente parlando dei primi modelli. Una volta c'era solo il 50mm. Quindi con un 50mm come questo 1.8 facevi sostanzialmente tutto. Questa fondamentalmente era una bella macchina fotografica. Nikon Japan con il suo bel numero di serie. L'oculare che potete vedere è il tipico Nikon con la forma tonda che c'è ancora oggi su molti modelli. Quindi io ho cominciato Nikon. Io sono sempre stato Nikon per gran parte della mia giovinezza. Poi sono passato a Canon per una serie di vicissitudini. Ma io quando avevo iniziato ero assolutamente sostenitore di Nikon. E lo sono ancora nel senso che Nikon mi piace molto. Quindi non è che siccome sono Canon il resto mi fa schifo. Anzi io vedo i punti di forza di tutte e due le case. Ora al di là della semplice bellezza di questo oggetto che è possibile alcuni di noi abbiano in casa. Alcuni di noi possono avere fotocamere come questa più nuove più vecchie riposte da qualche parte in un armadio. E lasciate sostanzialmente lì a fare la muffa perché non le usiamo più. Perché è difficile trovare la pellicola. Il punto qual è però? Queste fotocamere hanno bisogno di un intervento urgente da parte nostra. Altrimenti rischiano di subire un danno permanente. Perché? Perché queste macchine fotografiche anche se erano analogiche, anche se sono tutte di metallo, anche se sono indistruttibili. Perché queste veramente sono indistruttibili. Qui c'è un piccolo segno di caduta su questa camera eppure funziona ancora benissimo. Le camere di una volta non avendo componenti digitali elettronici ma essendo quasi tutte meccaniche non si rompevano mai. Erano immortali. Però queste fotocamere hanno al loro interno una piccola batteria. Questa batteria serve per azionare l'esposimetro. Infatti nel momento in cui io vado a selezionare gli ISO e la velocità di scatto e il diaframma, tutto con le ghiere meccaniche, avrò un esposimetro che andrà a fare una lettura della scena basandosi sul tipo di pellicola che ho messo e sulle altre impostazioni della camera e mi dirà se il mio scatto è corretto. Siccome qui non c'è il display quindi io non posso vedere il mio scatto in anteprima, devo basarmi su quello che mi dice la rilevazione dell'esposimetro. Questo esposimetro funziona con una batteria. Come ben sapete le batterie hanno questa simpatica caratteristica che se lasciate lì prima o poi cominciano a rilasciare acido e questo acido ovviamente se finisce dentro nei circuiti distrugge qualsiasi cosa incontri. Distrugge nel senso che rende inutilizzabile. Bisogna poi andare a intervenire con una revisione abbastanza invasiva. Bisogna mandare la camera in service e farla ripulire ed è veramente un peccato perché si può evitare. Per cui oggi andremo a vedere com'è possibile rimuovere la batteria da questo tipo di fotocamera. Probabilmente funziona in maniera analoga anche su molte altre fotocamere vintage che avete in casa. Se non dovesse funzionare esattamente nello stesso modo è possibile che sia più facile perché è possibile che abbiate una botolina sul dorso della fotocamera, sul fondo oppure sul retro da qualche parte. È possibile che ci sia una botolina con anche l'indicazione della batteria riposta e quindi potete andare ad aprire quella botola e semplicemente rimuovere o sostituire la batteria. In questo caso io andrò a rimuovere la batteria perché dopo tanti anni di inutilizzo è assolutamente necessario rimuoverla prima che si verifichi l'irreparabile. Quindi andiamo a vedere come si fa. La prima cosa da fare ovviamente è rimuovere la lente. Quindi bottone di sgancio e andiamo a ruotare la nostra lente. Rilasciamo il bottone di sgancio e la lente viene via. Una volta rimossa la lente vedete che abbiamo una levetta qui e questa levetta che finora non sapevamo a cosa servisse vedete che se azionata serve a flippare lo specchio quindi in questo momento abbiamo lo specchio in posizione aperta. Ora spero che riusciate a vedere all'interno c'è questa piccolissima botolina che sembra assolutamente inespugnabile a un primo esame però se noi mettiamo dentro il ditino e spingiamo verso sinistra ecco che la botolina si apre rivelando una piccola batteria da 6 volt. Questa batteria deve essere rimossa ed è incredibilmente difficile arrivare lì dentro con le dita per cui io vi consiglio di utilizzare un piccolo cacciavite potete utilizzare un cacciavite di quelli che si utilizzano per riavvitare le viti degli occhiali oppure per sistemare i cinturini degli orologi andate con molta delicatezza a tirare fuori la batteria. Una volta che avete estratto la batteria possiamo andare a richiudere la botola farà un click e tornerà in posizione a questo punto possiamo andare a reinserire la nostra lente quindi andiamo a inserirla la ruotiamo nel senso opposto finché non sentiamo un click e a questo punto la nostra fotocamera è al sicuro perché abbiamo eliminato la batteria al suo interno che poteva arreccare danno a tutti i meccanismi interni perché un rilascio di acido all'interno del corpo macchina è una cosa irreparabile non si riesce più a pulire bisogna mandarla in service non è neanche detto che ce la sistemino perché insomma sono macchine molto vecchie e far subire un danno di questo tipo a una strumentazione così vecchia che ha già lavorato tanti anni è veramente un peccato quindi io consiglio caldamente se avete una fotocamera vintage o delle fotocamere vintage in casa fate questo lavoro prendetevi 5 minuti per aprirle andare a verificare se hanno la batteria inserita nel caso non la stiate utilizzando rimuovete la batteria se la state utilizzando ovviamente va bene se siete tra i pochi fortunati che ancora scatta una pellicola e la usate di frequente va benissimo lasciatela pure dentro perché la state utilizzando se non la utilizzate per diverso tempo per diversi mesi ricordatevi di tirarla fuori la batteria durerà di più e avrà ancora un po' di carica quando la rinfilate e soprattutto se deve esplodere non esploderà dentro nella fotocamera quindi non andrà a rilasciare acido all'interno bene amici se avete guardato il video fin qui io credo che possiate ringraziarmi con un bel like per avervi fatto risparmiare un bel grattacapo perché una batteria esplosa all'interno di una fotocamera vintage è un bel problema anche nel caso in cui vogliate andarla a vendere perché in quel caso diventa inutilizzabile mentre queste macchine funzionano ancora basta averle conservate in maniera corretta vi ricordo anche di iscrivervi al canale perché arriveranno presto nuovi aggiornamenti lasciatemi sapere in un commento se avete delle fotocamere vintage che cosa avete in casa parliamone sono veramente curioso io ho trovato dei veri tesori tra le cose che ho ereditato da mio nonno le cose che ho rubato a mio padre e le cose che mia mamma non voleva più per cui ho qui un piccolo arsenale di fotocamere perfettamente funzionanti di diverse annate e con diversi funzionamenti fatemi sapere anche se vi interessa potremmo parlare anche di fotocamere vintage perché ne ho abbastanza da farci su un bel contenuto fatemi sapere se vi interessa e signori io vi do appuntamento al prossimo video iscriviti al canale iscriviti al canale